Buongiorno, ben ritrovati con l'approfondimento del venerdì. Oggi ci occuperemo della richiesta di un'indagine definitiva da parte dell'amministrazione americana sull'origine del virus, del virus che provoca il Covid-19, per stabilire se questo è stato originato o meno artificialmente, cioè se è fuggito o sfuggito dal laboratorio cinese. Proveremo a capire perché gli americani in questa fase hanno rilanciato la richiesta di un'indagine anzitutto dell'intelligence statunitense sul tema per svelare al mondo che cosa è accaduto dopo che negli ultimi mesi questa pista sembrava essere stata abbandonata, perché adesso invece viene riproposta con tanta urgenza. Anzitutto i fatti. Nelle ultime settimane, anzi dovremmo dire negli ultimi giorni, l'amministrazione statunitense è impegnata nel cercare le cause, l'origine del virus che ha provocato la pandemia in cui tuttora viviamo. Non è soltanto una questione di puntiglio tutt'altro, dietro ci sono ragioni di tipo tattico e addirittura forse strategico e proveremo ad indagare perché. Soltanto qualche giorno fa, esattamente la scorsa domenica, rapporti confidenziali dell'intelligence statunitense, come si fa sempre in questi casi, dati scientificamente in pasto e giornali, in particolare Wall Street Journal, dimostravano come ci sia un filone interno agli apparati americani che continua ad indagare su quanto è accaduto a Wuhan. Nello specifico sarebbe stato dimostrato che almeno tre virologi dell'Istituto di Virologia di Wuhan, la città, l'epicentro, nella diffusione del coronavirus a partire dalla fine del 2019, proprio a novembre del 2019, tre di questi sarebbero stati ricoverati in un ospedale locale con sintomi evidenti legati ad una forma di malattia molto simile, se non esattamente quella del Covid-19. Questo rapporto, appunto corroborato da voci anonime dell'intelligence statunitense, ha rilanciato il dibattito e il polverone sulle origini del virus attraverso l'amministrazione Biden. L'amministrazione Biden che, quando si è insediata, sembrava aver abbandonato questo filone che apparteneva, sembrava, soprattutto all'amministrazione Trump, a quella precedente che era molto impegnata invece ad incolpare la Cina d'aver provocato, d'aver causato artificialmente, forse non volontariamente, ma appunto con qualcosa che sarebbe sfuggito di mano nei laboratori cinesi, aver provocato la nascita del Covid-19. Giunto alla Casa Bianca Biden sembrava volersi ergere a paladino della scienza, voleva avvicinarsi a quelle posizioni più o meno certe della scienza statunitense che fino a qualche mese fa negava fortemente la possibile origine artificiale del virus. Poi qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato nettamente nella scelta dell'amministrazione attuale che sembra essersi avvicinata alle stesse ragioni identiche di quella precedente. Addirittura soltanto a marzo, altra notizia che è emersa in questi giorni la diffusa alla CNN, soltanto a marzo la Casa Bianca aveva interrotto un programma di indagine sulle origini del virus lanciato dal Dipartimento di Stato, ovvero dal Ministero degli Esteri, ai tempi del Segretario di Stato Mike Pompeo, teso a dimostrare proprio come la Cina abbia originato il virus e l'abbia fatto artificialmente. Ma dunque che cosa ha provocato questo inevitabile cambio d'atteggiamento da parte dell'amministrazione Biden che è tornata sui suoi passi e che adesso utilizza la medesima retorica e soprattutto persegue il medesimo obiettivo dell'amministrazione Trump? Tanto da aver cooptato in questo sforzo il più famoso immunologo statunitense, quell'Antoni Fauci che fino a qualche mese fa dichiarava impossibile l'origine artificiale del Covid-19 che invece qualche ora fa si è detto possibilista sull'origine artificiale dunque umana del virus dicendosi appunto per nulla convinto che il Covid-19 sia nato in ambito totalmente naturale. Sono di fatto tre dei ragioni che muovono l'azione attuale dell'amministrazione Biden. Una, possiamo vedere la prima carta che abbiamo preparato per questo approfondimento disegnata da Laura Canali, la prima ragione che è esterna alle tre principali può essere anche semplicemente una ricerca legittima della verità. Un'amministrazione come quella statunitense dovrebbe, deve avere come proposito anche questo, cioè quello di ricercare la verità dei fatti, scoprire realmente che cosa è accaduto a Wuhan in Cina intorno al virus. Ma questo è certamente un proposito nobile, certamente una motivazione molto alta, ma è quella laterale, quella meno importante della vicenda, perché come detto quelle concrete al di là di questa addizionale sono tre quelle che muovono l'amministrazione americana. La prima di queste è legata alla scelta statunitense di occuparsi anzitutto di sé quando si tratta di vaccini per poi dedicarsi agli altri paesi del pianeta. Vediamo anche la prossima carta dedicata proprio alla geopolitica dei vaccini. Gli Stati Uniti, a differenza di quello che stanno perseguendo in queste settimane, in questi mesi, ne abbiamo già parlato anche in questo approfondimento, a differenza di Cina e Russia, gli Stati Uniti, dicevamo, hanno scelto di vaccinare anzitutto la propria popolazione, le giunge dell'immunità di greggie fra gli abitanti della superpotenza per poi dedicarsi agli altri, cioè si sono dimostrati egoisti in questo senso, hanno scelto di occuparsi prima della loro salute e poi di quella degli altri. Dimostrare che sia stata la Cina involontariamente o volontariamente a creare il virus cambia inevitabilmente la prospettiva di egoismo che riguarda la sfida tra Stati Uniti e Cina per la supremazia globale che ha anche fortemente una dimensione moralistica, propagandistica nella quale ci stiamo muovendo in riferimento alla questione di cui ci occupiamo quest'oggi. L'intenzione dunque da parte dell'amministrazione americana è di dire noi, sì, ci stiamo occupando prima della popolazione statunitense, ci dimostriamo egoisti, addirittura tratteniamo le dosi di vaccino sul nostro territorio, adesso le stiamo mandando anche all'estero, ma lo facciamo lentamente, mentre i cinesi si sono offerti di aiutare gli altri, addirittura vaccinando una percentuale nettamente inferiore della popolazione cinese. Nelle ultime ore Pechino ha perfino offerto i propri vaccini a Taiwan, all'isola ribelle che vorrebbe reinserire nel territorio nazionale, ma dice Washington tutto questo ha un valore limitato perché la Cina potrebbe aver creato il virus, il laboratorio, potrebbe averlo fatto più o meno involontariamente. Questa è la prima ragione eminentemente tattica perseguita dagli Stati Uniti. La seconda ragione è direttamente collegata a questa, tutti i grandi imperi necessitano di una missione per imporre se stessi, devono avere una capacità di coagulare intorno a sé i favori dei potenziali satelliti o delle potenziali province, non esiste impero che si imponga con la sola forza, ci deve essere tra coloro che parteciperanno del sistema, tra coloro che vi saranno sottomessi la sensazione di appartenere ad un contesto migliore, nel quale è più favorevole vivere anziché rimanerne fuori. E questa missione è legata anche alla ricerca della verità, almeno nella finzione di una ricerca della verità che per tutti gli imperi vale sempre quando è funzionale all'interesse imperiale, altrimenti la verità non interessa più. Questo è ciò che capita pure in questa fase, gli Stati Uniti devono dimostrarsi una superpotenza sincera, interessata al benessere degli altri, interessata alla verità, anche per impedire alla Repubblica Popolare di creare una sua missione, di creare un suo vettore propagandistico che la possa lanciare nel contesto internazionale. La Cina manca totalmente di questa dimensione, di questa profondità, non è riuscita ancora a distillare nessun veicolo nel racconto, nella narrazione di sé che possa avvicinare a Pechino i paesi soprattutto asiatici e in questo modo gli Stati Uniti vogliono prevenire, impedire che la Repubblica Popolare possa crearsi questo tipo di dimensione in merito alla gestione del virus, addirittura qualora lo dimostrassero, il che resta comunque molto difficile, addirittura segnalando che Pechino è stata la nazione, la Cina che ha creato il virus. Da ultimo l'intenzione statunitense è quella di smantellare la pretesa di assoluta sofisticazione tecnologica che la Repubblica Popolare va perseguendo. Negli ultimi anni la Cina si è presentata al mondo come l'avanguardia assoluta della tecnica e della tecnologia, capace di insidiare gli Stati Uniti anzitutto in questo campo dall'intelligenza artificiale in giù. Come la mettiamo, prova a dire l'amministrazione statunitense, se un paese che si vuol vendere come tanto sofisticato non è stato capace di gestire un virus creato in laboratorio, di più se l'è fatto sfuggire, ha condotto il mondo in piena pandemia provocando milioni di morti e milioni e milioni di contagiati, altro che supremazia tecnologica siamo davanti a dei veri pericolosi, criminali, dilettanti. Questo sembra voler dire nella sua narrazione l'amministrazione americana e riferimento alla Cina. Sono queste le tre principali motivazioni di carattere tattico, un carattere tattico così cogente da sfiorare quello strategico nella richiesta americana di un'indagine definitiva sulle origini del virus. Addirittura Joe Biden ha chiesto all'intelligence d'oltreoceano di svolgere questa mansione nell'arco di massimo tre mesi, 90 giorni, per sapere che cosa è accaduto veramente. Difficile che possa essere accertata in modo univoco la verità, anzitutto perché le autorità cinesi certamente non collaboreranno, non offriranno agli Stati Uniti materiali, accesso che la superpotenza americana necessiterebbe, necessita per perseguire la verità, per scoprire che cosa è accaduto realmente. Ma il punto qui non è quale sarà e semmai sarà approvata l'origine del virus. Il punto è capire che nella competizione fra Stati Uniti e Cina in questa fase conta molto la narrazione di sé e la propaganda imperiale che i due soggetti riescono a mettere in campo. E nel cercare di dimostrare che il virus è stato prodotto più o meno involontariamente nella Repubblica Popolare, gli Stati Uniti provano a smarcarsi da una gestione egoistica del post-pandemia che almeno sul piano dell'immagine li sta penalizzando in confronto alla Repubblica Popolare. Con questo è tutto, un ringraziamento per avermi seguito all'appuntamento. Alla prossima settimana.